benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto 46.100 abitanti 130 metri sul livello del mare per una cittadina adagiata nella parte orientale dell'operoso nord ovest da queste parti si è letteralmente fatta l'italia e oggi il capoluogo di questa provincia è un centro agricolo ed industriale di grandissima rilevanza sullo scacchiere nazionale molte le eccellenze il riso su tutte un fondamento della nostra tradizione gastronomica che qui è fonte di vite e di lavoro ma si trova con facilità anche il tocco di un respiro internazionale cosmopolita dato da una geografia assolutamente fortunata le risaie irrolate da corsi d'acqua generosi e abbondanti disegnano un orizzonte pieno di riflessi e da cartolina che come un viaggio nel tempo riporta la mente al ricordo delle cose belle di una volta le rive del sesia la pianura padana il triangolo milano genova torino i temporali e il riso i celti e i galli santo eusebio la dora balte e se voglia la basilica di sant'andrea la chiesa di san paolo la sinagoga e ovviamente la pro vercelli il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a vercelli questo è tutto il calcio provincia per provincia uno straordinario affresco della nostra memoria sportiva un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia calcistica d'italia alla riscoperta delle nostre unicità locali tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro di paese diventa provincia per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo alle nostre latitudine grazie al calcio alla cultura e alla gastronomia diventa anche un lascito culturale da nord a sud dal mare alla campagna dalle alpi alle isole tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'italia abbiamo scelto questo fatto di pallone fatto di passione e fatto di ricordi antico testamento del nostro calcio oggi andiamo all'origine al mito alla ricerca della storicità più antica per un nome che riecheggia in tutti gli annali in tutti i racconti e gli albi d'oro per una formazione il cui nome è in pratica un sinonimo del calcio che fu dell'eroismo dei primi anni del 1900 di un modo cavallerisco e coraggioso di vivere lo sport sullo stemma della provercelli sotto lo scudo bianco e crociato di rosso che rappresenta la città capeggia una data precisa 1892 tantissimi anni fa verba volant e scripta manent in latino perché come vedremo i romani ci hanno messo lo zampino pure qui ma facciamo un passo alla volta anno domini 1903 nella culla rassicurante della ginnastica provercelli nasce il football club cittadino a fondarlo insieme a tre amici e compagni fu marcello bertinetti un grande amante dello sport la cui principale passione era dilettarsi di scherma un'altra grande eccellenza italica al pari del pallone dopo le prime partitelle dentro il perimetro domestico l'anno seguente nel 1904 prese corpo il vero mito fondativo della leggendaria provercelli non stupitevi se andiamo alla ricerca del racconto o se lo riempiamo con i dettagli più curiosi perché proprio grazie a questa retorica che 11 ormoni che inseguono un pallone si trasformano in figure di riferimento del nostro panorama sportivo e culturale è così che il calcio esce dal campo e diventa fenomeno culturale i fatti non bastano mai quelli sono solo la premessa il succo sta nell'epica nel 1904 arrivò la prima occasione di esportare il calcio vercellese per l'esattezza al torneo di casteggio 80 chilometri circa a est della città a grande appuntamento il neonato club si presenta già con la caratteristica iconica divisa bianca con calzoni neri il motivo di tante eleganze dato da un lavaggio sbagliato gli esordi infatti vennero giocati con la maglia bianca a striscioline nere ma un lavaggio mal compiuto finì col macchiare tutto i soldi per altra divisa non c'erano e quindi si decise di giocare con la camicia buona quella della domenica che era rigorosamente bianca ma col pantaloncino nero perché il nero va con tutto quale modo migliore per prepararsi al torneo di una bella gita in bicicletta il trasferimento da vercelli a casteggio i nostri eroi lo fanno infatti in bicicletta 80 chilometri abbondanti sui mezzi dell'epoca ben distanti dalle leggerissime biciclette in fibra di carbonio che oggi tutti abbiamo nel garage tante chilometri non sono uno scherzo e c'è da credere che i ragazzi alla partita arrivarono con le gambe belle calde tutti tranne i buon luigi sessa aspirante calciatore che non andò mai oltre la seconda squadra e che alla fine decise di fare l'arbitro perché si sa che chi non sa fare arbitra il sessa aggregato alla squadra dovette per l'occasione imparare ad andare in bici lui che delle due ruote non era certo un gran fan e che non ci aveva mai preso troppo gusto da 0 a 80 i chilometri percorsi in un solo pomeriggio al seguito dei compagni di mille avventure pare o almeno così dicono che non fosse finita lì perché quando il gruppone dei fuggitivi giunse in prossimità di un ponte sul ticino tutti tentarono di non pagare il pedaggio per l'attraversamento sfrecciando intorno al povero custode il povero luigi sessa fanalino di coda si ritrovò braccato e costretto a pagare per tutti al torneo le bianche casacche batterono il casteggio e combatterono testa a testa con il fortissimo milan prendendo coscienza del fatto che questo football in fondo poteva dare anche qualche soddisfazione rientrete a casa vennero accolti come dei grandi vincitori e da quel momento esatto iniziò la loro leggenda perché ricercare un mito dunque perché tra le pieghe della leggenda si nascondono sempre due cose lo stupore e la verità le origini della città stessa di vercelli ci sono in parte sconosciute ed in fondo è bello anche così alcuni credono che affondarla furono i celti altri invece che furono i galli ma tra galli e celti quel che è certo è che i romani nel 49 avanti cristo presero possesso della città e le conferirono piena cittadinanza 49 avanti cristo antico testamento per davvero come dicevamo e da lì in avanti è stato tutto un crescendo e un'espansione almeno per un po la trasformarono in un municipium con tanto di acquedotti teatro strade e tutto quello che l'ingegneria latina si portava sempre appresso nel suo processo di conquista qualche anno dopo chiaramente passati al dopo cristo a darle ulteriore lustro arrivò anche un sacerdote diventato vescovo nativo della lontana sardegna che in piemonte a vercelli concentrò gran parte della propria opera di predicazione ci arrivò da giovane poi venne esiliato in medio oriente e poi ci ritornò grazie al cambio dell'imperatore perché all'epoca la politica aveva il suo ben da dire anche negli affari dell'anima padre eusebio poi diventato il vescovo eusebio e dopo ancora sante eusebio fu un uomo stimato duro contro gli eretici come richiesto a quei tempi ma anche capace di grande senso artistico come quando introdusse in italia il culto della madonna nera fu tanto grande e tanto amato da diventare il santo di vercelli e il patrono di tutto il piemonte che se ci pensate è quasi come esserlo dell'italia intera il duomo cittadino è potremmo dire diventato del tutto affar suo fu sante eusebio a costruirne il primo nucleo sul modello di san pietro antico a roma era il quarto secolo dopo cristo e più indietro di così con l'architettura sacra è davvero difficile andare oggi la cattedrale che nel tempo è stata più volte ritoccata ed è diventata un po barocca un po neoclassica un po manierista è dedicata proprio al santo e sull'omonima piazza si affaccia forte di un profilo bellissimo unico un eclettico miscuglio di stili e di epoche che solo chi ha la forza di un grande mito fondativo può mostrare con fierezza dal torneo di casteggio in avanti un'ondata di calcio vercellese si infranse sullo stivale pallonaro prima di tutto si scendeva in campo solo con i giocatori di vercelli se no che senso ha se quelli forti arrivano anche da altre province l'unica eccezione venne fatta per felice mario lodovico berardo che era nato nell'esotica torino e che si era fatto le ossa nel piemonte football club si alzò un polverone ma il felice che tra l'altro era un nazionale azzurro alla fine riuscì a vestire la tanto ambita casacca della provercelli gratis ovviamente non come il capitano storico carlo rampini che forte del motto tutti per uno uno per tutti guidava una squadra che vinceva senza la presenza di un allenatore il capitano veniva pagato dal presidente luigi bozzino a suon di sigari in un regime di dilettantismo puro questo costituiva un bel problema ma dopo una lunga inchiesta tutto si risolse senza alcuna squalifica perché rampini dimostrò che quei sigari li vendeva per recuperare il denaro che serviva a curare il fratello di un compagno di squadra l'attaccante carlo corna poesia altruismo e tanto pallone quasi una famiglia di fratelli acquisiti prestata al mondo del pallone celebrazione del grande mito fondativo di una pre storia calcistica che appare oggi quanto mai attuale anche solo per quanto ci manca vinsero l'incredibile numero di sette scudetti e all'ottavo rinunciarono nel 1910 solo per protesta contro un calendario che li avrebbe obbligati allo spareggio con l'inter mentre i suoi migliori giocatori erano impegnati per doveri militari un'epopea autarchica dolcissima piena di aneddoti magnifici e capace persino di regalare alla nazionale azzurra nel 1913 una partita in cui ben nove undicesime della squadra erano vercellesi anzi otto più uno perché il berardo lo avevano anche adottato ma era di torino e vercellese non lo sarebbe mai potuto diventare vercellese non lo sarebbe mai potuto diventare una storia magnifica che racconta del nostro bellissimo provincialismo e della forza dei miti fondativi siano essi quelli di una città di una squadra o di un pezzo d'arte questo è tutto il calcio provincia per provincia il nostro viaggio sulla delle orian per le strade calcistiche d'italia nessuna autostrada e niente pedaggi solo ed esclusivamente strade provinciali alla prossima grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio